Partiamo da una cosa che c'è nel titolo della mostra di Miller, che è la parola non. In quel non ha cambiato il mondo, c'è l'assoluta identità. Tra il lavoro che faccio io, con il lavoro di scrittura, di parola, e nel non essere riuscito a cambiare il mondo, che c'è il rapporto tra me e Miller. Nella fotografia come nella scrittura c'è un'enorme capacità di mistificazione, di realtà e di mistificazione. Le fotografie sono importanti, sono considerate la cosa più realista che c'è. C'è la foto, non si dice sempre così, no, c'è una fotografia. E' successo così. E però se non c'è la dicitura, e nella dicitura c'è la profondità possibile della mistificazione. Nella parola c'è, nello scrivere c'è, un'altrettanto profonda e incommensurabile possibilità di mistificazione. Allora, il mondo in cui vivo è fatto di fotografi, che pensano di essere delle reincarnazioni perenni di Kappa, e di giornalisti che pensano di essere la reincarnazione perenne di Hemingway. Allora, né io né Miller apparteniamo a questa categoria. Perché entrambi siamo arrivati al valore salvifico e scatologico della parola non. Cioè, siamo partiti per raccontare il mondo, lui con la sua leica, non so come cavolo si chiamava, le macchine fotografie che usavano i polacchi, io con un tacquino e una penna, e siamo ritornati con una traspettazione incontrovertibile che non lo cambieremo mai. Che quello che abbiamo fotografato o quello che abbiamo raccontato, in luoghi in cui l'uomo è confrontato al dolore, non al problema del PIL, del rimborso, di quale sarà il prossimo governo, se c'è andare a destra o a sinistra, sono confrontati all'urto, all'urto violento, mortale del dolore e della sofferenza. Abbiamo testimoniato, lui in suo modo, io in un altro, lui in modo meraviglioso, in modo da artigiano di seconda di seconda schiera, e che cosa abbiamo ottenuto? Che il mondo è rimasto straordinariamente lo stesso. Allora, un manuale di storia contemporanea, invece che andare a comprare libri di accademici che vivono rintanati nelle loro ben riscaldate cucce universitari, potrebbe essere fatto con le fotografie di questa mostra. Il mondo è questa roba qui, è quello che ha raccontato fino a un certo punto della sua vita Miller, è quello che io continuo più o meno a raccontare. Allora, è il confronto con questo mondo reale, che non ha determinato però nell'altro mondo, cioè quello che lo guarda, quelli che vengono a questa mostra, oggi, domani, tra un mese, mille altre mostre di fotografie, o leggeranno tutti i miei pezzi, quei pezzi che scrivono a me molto meglio di me, non cambieranno mai, perché il loro mondo è totalmente estraneo, indifferente, è privo di qualsiasi forma di compassione umana nei confronti di questa testimonianza. E l'altro elemento, anche questo, che non possiamo verificare, è che Miller si è ucciso per questo. Non si è ucciso perché non aveva avuto successo, perché non aveva riempito il conto in banca, perché era un polacco di un paese che usciva dal comunismo ed era povero e secondario in mezzo agli altri fotografi super dotati, super ricchi, delle super compagnie, delle super agenzie fotografiche, si è ammazzato perché l'usura del dolore che lui ha vissuto e che non è riuscito a restituire, lo ha ucciso, è morto di dolore. Non di… c'è nel purtroppo, nella presentazione di Miller, alcune parole che io considero assolutamente impronunciabili. Il disturbo post-traumatico è la consumzione che il dolore umano, frequentandolo, passando per la sua pelle, ti procura. Non c'è nessun disturbo post-traumatico, non ho mai avuto un disturbo post-traumatico che ho attraversato le catastrofi più terrificanti del XXI secolo. Dormo benissimo, non ho incubi. È la verifica come una goccia continua, giorno per giorno, di come il mondo vero sopravvive e muore, che ti porta alla decisione ultima di Miller. Per altri può essere una scelta diversa, non tutti vogliono suicidare. Nel suicidio c'è sempre qualcosa che ci urta, perché ci mette di fronte a una situazione che non possiamo cambiare. Cosa gli diciamo a uno che si è ucciso? Quale discorso gli facciamo a Miller? Che bella le tue fotografie! Ebbè, io per quelle fotografie sono morto. Eppure in questo suicidio, in quel non c'è la testimonianza. Mi permetto di dirlo, io l'estetica della fotografia non me ne frega niente. Sinceramente non me ne frega niente. È una testimonianza molto più brutale gli altri che vincono i premi. O i giornalisti che vincono il Pulitzer, il non so che cosa, il Montanelli e tutte queste cose. È in quegli due atti una parola, non, e nella conclusione della sua vita, cioè nel porci brutalmente, violentemente di fronte alla scelta della morte. Questo è Miller. Questo mi ha colpito. C'è la dimensione unica in cui una persona che fa il mestiere mio, il mestiere che faceva Miller, oggi è di tacere. Di tacere. Constatare brutalmente, con il silenzio, l'impossibilità di testimoniare. Di fronte all'afrasia totale della misericordia e della carità nel mondo in cui viviamo. Se vuole un suicidio non brutalmente fisico, ma altrettanto esemplificativo, perché non c'è altra via. Non c'è altra via. Faccio l'esempio dei migranti, che è stato uno dei temi della mia narrazione inutile. Perché io devo continuare a scrivere dei migranti? Perché devo continuare ad andare per la quarantaduesima volta in Libia a dire che ci sono dei posti dove i migranti vengono stoprati, violentati, torturati, martirizzati, uccisi? Lo sanno tutti. Lo sanno tutti. Quello è il narcisismo del proprio mestiere. Pure semplice. Io non scrivo per i migranti, perché so benissimo che tanto quelli lì non le muove nessuno. Non sono le mie fotografie, non sono i miei articoli, non sono i miei libri. Non li muove nessuno, perché il mondo non li muove. Il mio mondo. Il mio è il suo. Allora l'unica mia testimonianza è di non andarci più, perché altrimenti non ci vado per loro, ci vado per me. Per produrre delle cose che io poi dirò io ho scritto 85 pezzi sui migranti, sono stati 35 volte nel centro di detenzione. di saporata, di misurata, di siro, di non soddoro. Ebbene, per chi l'ho scritto? Per me stesso. Perché magari mi ridanno il premio che mi hanno giocato una volta e guadagno qualche soldo in più col giornale per cui scrivo. Ma no, ma per piacere. L'unico atteggiamento eticamente possibile è quello di non scrivere. Di non scrivere. O di non fotografare, ma io non posso fare anche il mestiere degli anni. Ripeto, non è il mio fotografo. E callo, questo mondo l'ha fatto al contrario. E il callo dell'indifferenza che lei da nessun callista riuscirà mai ad estirpare. Cercare di scrivere una prosa onesta sugli esseri umani. Il giornalismo è questa cosa qua. Tentare formalmente, e dal punto di vista del contenuto, di scrivere una prosa onesta sugli esseri umani. Questo è stato il mio scopo da quando ho cominciato a fare questo mestiere. Prima ne facevo un altro che non c'entrava assolutamente nulla in questa roba. Allora, che cosa significa scrivere una prosa onesta sugli esseri umani? Che vale anche per quello strumento lì, per una cinepresa, per qualsiasi drone, per qualsiasi cosa lei usi per fare questo. È la condivisione e la presenza. Cioè, essere con questi esseri umani. Boh, lei mi dirà, e che cavolo, una fotografia come la faccio la foto se non sono con questi esseri umani? C'è molti modi di essere con questi esseri umani, però essere lì fisicamente, in corpo e vili, antropologicamente vicino, anche nelle esperienze più estreme alle persone che tu fotografi o che cerchi di descrivere. Punto primo. Secondo punto, non fare il mestiere dal punto di vista come dire, sono andato lì, ho raccolto le mie note, ho fatto 50 fotografie, la luce era buona, il taglio ancora meglio, le facce erano succedenti, sono a posto. No, lei non ha fatto che il primo e il più secondario degli atti giornalistici della sua attività. Perché ce n'è un secondo senza il quale quello che lei ha fatto non vale un picosecco. Non vale un picosecco. il secondo è commuoversi, cum muovere, dicevano i latini, muoversi con, con le persone che lei ha fotografato e che lei ha descritto. Allora, se lei si commuove, se lei si commuove e piange, la famosa storia di McCallum, ho fotografato una ragazza morta nelle vie di Cipro al tempo della guerra tra i greci e i turchi, mi ho fatto la foto, stupenda, infilata in mezzo, il sangue che usciva, il coro greco dei parenti che piangevano, poi mi sono messo a piangere. Allora, ha compiuto, McCallum ha compiuto, un atto giornalistico. se non faceva la seconda cosa, non faceva niente. Il giornalismo è morto perché non fa più la seconda cosa. Non fa più la seconda cosa. Raccoglie, messi insieme, affascicola, ma non si commuove. Questo è il mio rapporto nello scrivere. La mia scrittura deve essere qualche cosa che quando uno la legge si brucia come se impugnasse un carbone rovente. Se io non riesco a costruirmi una lingua che nel descrivere queste cose determina in chi legge un'abrasione, un sussulto, un senso fisico di disperazione e di dolore, ma fisico, non metafisico, fisico, allora ho fallito, non so scrivere, non so scrivere. Tutto lì. la sua apre non so fotografare. Credo che la vita di una persona che come la mia ha avuto la fortuna di attraversare molte storie e tutte drammatiche. Nel mio mondo non ci sono conclusioni felici, fortunate, storie di successo, di... tutte storie che finiscono male, nella morte, nella continuazione della povertà, nella fuga senza speranza. Questo è il mondo che racconto io, l'altro modo mi interessa in modo molto relativo. La propria vita è fatta dai frammenti di queste storie che si sono poco a poco incastrati dentro di te, anche minimali, cioè le persone che io ho conosciuto in vent'anni, trent'anni che faccio sto mestiere. Delle volte l'ho conosciuto da cinque minuti prima che saltassero in aria o che qualcuno le accappasse e li facesse a pezzi con un macete. Non sono storie lunghe, io non posso fare dei racconti, trovo uno, questo gli parlo, quello... No! Nel tumulto di questo mondo qua, le vite che incroci, le incroci spesso per frazioni di secondo, però ognuno di queste puntine da disegno diventa la tua vita e alla fine la tua vita è quella roba lì, non è che ne hai un'altra dello scrittore, del tizio che era... Non hai elaborato niente, hai semplicemente assorbito come una spugna tutti questi infiniti attimi di disperazione o di speranza o di sogno. Io ho incontrato anche dei signori rivoluzionari che in nome di rivoluzioni, escatologie, fanatismi religiosi, paradisi sulla terra, massacravano la gente con gran piacere, anche quelli sono scaglie della mia vita, anche quelle sono scaglie della mia vita, anche gli ultimi massacratori ho incontrato, i soldati di Gheddafi, altri vorranno farmi pure la pelle, ma insomma, i ceceni, i jajajisti, i briganti fanatizzati della guerra siriana, alcaidisti, ci ho vissuto pure per 5.000 con gli alcaidisti, anche quelli sono una parte della mia intima narrazione e tutti questi hanno formato il male, perché poi sono uno che non sa scrivere, ma hanno formato l'humus di quello che poi è diventato inutili racconti che ho fatto su questi luoghi, su queste persone. dal mio punto di vista personale sono loro la mia vita, non è che c'era un'altra e quella cosa lì me la porto dentro, l'assorbi, Miller l'ha talmente assorbita che l'ha portata a morire, l'ha soffocato, l'ha stretto in un laccio talmente forte che alla fine non è più riuscito a respirare, erano quelle mille vite che andate a vedere nelle sale della mostra che così bene ha inventato Tiziano Bonomo. Cioè voi leggete in una mostra del genere due storie, uno è dei posti dove quest'uomo è stato ed è un bel pezzo della storia del Novecento perché si parte dalle rivolte di Velluto, chiamarle così, della Polonia di Valesa e si arriva ai bambini soldati, all'Afghanistan, alle guerre cecene, ma c'è di tutto lì, c'è veramente di tutto. E poi c'è l'altra parte che non c'è, apparentemente non c'è ed è il giorno dopo giorno di Christopher Miller il fotografo polacco che viene fuori da lì, anche se voi magari non lo vedete mai, c'è una foto forse, la sua vita è lì perché è in quei frammenti, è negli occhi di quelli che ha fotografato, nell'ira di quelli che ha fotografato, nella bestemmia di quelli che ha fotografato perché ci sono dei fiori manigordi in quelle fotografie, non ci sono mica solo dei sofferenti, c'è la storia di Miller in quelle fotografie, è la sua biografia, è la più bella biografia, non l'ho letto la biografia di Miller, ma ce l'ho già, non c'ho bisogno di leggere niente, quello devo leggere, ce l'ho lì, per interposta persona. Credo che i fotografi, i giornalisti, ma parlo della mia categoria perché quella degli altri non voglio avere l'arroganza, dovrebbe porsi questa domanda, ma che ci stiamo a fare? Qual è il nostro peso? Al di là dell'essere considerati persone di grande qualità artistica, gente che sa scrivere, diventare capi redattori, direttori, che la televisione gli dà la trasmissione, che ci stiamo a fare? Perché andiamo lì? Da quella foto lì sono morte altre 200.000 persone. Per questo che l'ho detto, guardi che la fotografia ha un straordinario potere di verità, di realtà, scusi, ho usato la parola sbagliata, di realtà, ma anche una estrema capacità di mistificazione.